sesta stazione la veronica asciuga il volto di gesù dal libro dei salmi il mio cuore ripete il tuo invito cercate il mio volto il tuo volto signore io cerco una pia donna asciuga il volto di gesù e sul telo rimane impressa la reale immagine del suo viso la vera icona acropita ossia non dipinta da mano umana la pia donna sarà ricordata proprio per questo episodio e vera icona veronica diventerà il suo nome il sangue di gesù costella il suo cammino come i grandi fiori rossi del pavimento musivo che la leggenda vuole sognati da ottono primo a simboleggiare la volontà divina di costruire una chiesa laddove fossero sbocciati in un piccolo campo a murà dietro il male si fa forte e non si nasconde più a 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